Eccoci. Allora iniziamo con perfetto quarto d'ora accademico. Vittoria Cappelli, una vita per l'arte e la danza, con gli auspici Presidenza Commissione Cultura Camera dei Deputati, un evento promosso da ICAS, un premio, Presidente Mollicone, per una signora dell'arte e della danza. Prego. Saluti speciali si fanno dal foglio. Buonasera a tutti. Per me è un grande piacere e un onore. Saluto e ringrazio tutti i partecipanti. In particolare do il benvenuto al consigliere per la danza del Ministero della Cultura Ambula, Sungani, e la componente del gabinetto del Sindaco della città metropolitana di Bologna, Simona Lembi, il Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti Caleazzo Bignami, che ci segue da remoto, che non ha potuto essere qui ma che porta i suoi saluti e ha mandato anche un videomessaggio. Saluto e ringrazio poi Paola Saluzzi per la sua cortesia, eleganza e ovviamente professionalità, che intervisterà la nostra Vittoria Cappelli, a cui farei un grandissimo applauso, insieme ad altri ospiti autorevoli, che vedo anche in platea. E insomma è un onore per me conferire un riconoscimento alla carriera Vittoria Cappelli e farlo qui oggi, 15 giugno, alla Camera dei Deputati, insieme al Sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni, che ci raggiungerà, e al Presidente della Festa del Cinema, Gianluca Farinelli, che ringrazio anche per la partecipazione e il sostegno anche da Bolognese, quindi penso che ci sia anche un interesse locale da entrambi. Oggi celebriamo soprattutto una donna, un'artista, che ha mantenuto negli anni lo stesso infinito amore per la danza, per la bellezza, per la cultura. Come ripete sempre lei, a prescindere dall'obiettivo professionale e non, quest'arte sublime modifica il nostro modo d'essere e di stare al mondo. Per merito certo del padre Carlo Alberto Cappelli, famoso editore, e sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna, che ci mantiene vivo nel ricordo di Verona, è cresciuto guardando, Vittoria Cappelli è cresciuta guardando l'opera, il balletto, sin da quando aveva 5 anni, e ha conosciuto tutti i più grandi artisti del mondo. Vittoria Cappelli ha dedicato la sua vita alla danza, il suo è stato tra i più importanti contributi artistici del Novecento ed è tuttora vastissimo nel segno della promozione e valorizzazione delle arti, delle bellezze culturali e storiche. Vittoria Cappelli, vedete, ha unito l'arte e la promozione. È stata anche autrice di diversi programmi, con Filippo D'Averio, in cui l'arte visiva è solo uno degli elementi per raccontare il territorio, ampliando la trattazione anche ad altri aspetti culturali, come le tradizioni eneogastronomiche, storiche, economiche, industriali, con il fine di promuovere un turismo lento, intelligente, nell'immenso museo diffuso italiano. Sempre con le parole di Carlo Alberto Cappelli, fare uno spettacolo è un'avventura. Memorabile fu la danza in Vaticano davanti a Papa Giovanni Paolo II nell'anno 2000 del Giubileo, con migliaia di giovani riuniti in Piazza San Pietro per la giornata mondiale della gioventù. Quella di Vittoria Cappelli, vedete, è stata una vita, come abbiamo detto, per la danza e per le danze, una vita vissuta per la danza, come l'impegno per la ripartenza della danza dopo il Covid. Un mondo che vanta migliaia di iscritti e che ha anche una forte significato e connotazione sociale sui territori, sulle comunità, quali poli aggregativi di giovani e di tutto il loro contorno sociale e affettivo, fatto in nome della bellezza e dell'arte. Al Governo stiamo riformando il Fondo Nazionale dello Spettacolo, come sapete, ponendo massima centralità per la danza. Stiamo ripristinando laddove possibile, e comunque in confronto con i danzatori, i corpi di ballo delle fondazioni ligo-sinfoniche, che intendiamo valorizzare. Miglioreremo la sincronia tra formazione e produzione, garantendo uno sbocco professionale a tanti giovani danzatori, anche dopo aver danzato. Come hanno fatto Carlo Alberto Cappelli e Vittoria Cappelli, a coronamento di un'attività svolta sempre nel segno della professionalità e qualità, nella continua volontà di promuovere e valorizzare le bellezze ambientali e storiche italiane, oggi dedichiamo questo appuntamento a Vittoria Cappelli, una vita tra le stelle. Un grande applauso a Vittoria Cappelli. Grazie, Presidente. Consigliere del Ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano, Mula Sungani. Buonasera a tutti. Sono molto emozionato perché qui sono in doppia veste, in veste istituzionale, per cui Vittoria, il Ministro San Giuliano ti manda il suo saluto e ti fa i complimenti per tutto ciò che hai fatto per la danza e soprattutto per quello che continuerai a fare per la danza e per tutti noi. approfitto anche perché anche il Sottosegretato di Stato Gianmarco Mazzi ti saluta con tantissimo affetto e ti dice che anche lui aspetta da te quel contributo che puoi darci per poterci migliorare. Adesso arriviamo a me. Vittoria Cappelli. Vittoria Cappelli è energia ed amore. Energia tantissima. Amore ancora di più. Una donna che ha vissuto, amato la cultura, ha sempre vissuto per la cultura, per la danza e per l'arte ed è qui oggi per ricevere un riconoscimento che secondo me, li ringrazio chiaramente Federico Molligone per questo riconoscimento, ma che comunque dovrebbe seguire, dovrebbe essere seguito dalle attività vere e proprie in sostegno di persone che possono trasmettere alle nuove generazioni di danzatori, ai giovani come l'hanno fatto per me e per tutti gli altri, comunque sia dei valori fondamentali. La danza per Vittoria Cappelli, la danza è arte, la danza è qualità. Lei non ha mai lavorato con steccati qualitativi artistici, ha sempre lavorato in favore della qualità, non interessava se uno facesse hip hop contemporaneo o danza classica. L'importante è che ci fosse tantissima qualità e lavoro. Io sono, credo Vittoria, poi correggimi se sbaglio, l'artista che ha lavorato più anni con lei. Lei mi ha preso quando ero molto giovane, mi ha fatto fare una carriera da coreografo, art director, autore televisivo, regista. Il nostro rapporto è andato avanti perché è stata una grandissima amicizia. Lei mi cazzava ed è obiettivo. Quindi Vittoria insieme alle altre due sue grandissime compagne di viaggio, insieme a Vittoria Ottolenghi, per cui farei anche per lei un applauso. Adriana Borgonovo, quindi erano le tre, si completavano tre signore, io le chiamavo con affetto i tre rinni perché quando arrivavano facevano tremare i muri della RAI, ma in realtà erano una grandissima produttrice, una grandissima autrice, una grandissima regista. Cosa hanno fatto queste signore? Una cosa molto semplice. Hanno portato la danza nella casa di tutti gli italiani all'ora di cena e hanno portato i più grandi danzatori della storia della danza a contatto con tutto il pubblico. Questo ha favorito una nuova generazione di danzatori che è arrivata comunque a produrre dei grandissimi artisti che conosciamo fino ad ora. Vittoria, io penso che io adesso ho questo incarico, un incarico istituzionale, che credo che mi motiva molto, che mi onora moltissimo, ma credo di aver bisogno di una persona come te, vicino, per poter intanto essere cazziato e secondo poi per poter portare avanti un discorso che a noi sta molto caro, la qualità. Quindi la danza è qualità, l'arte è qualità. Grazie. Grazie. E siamo solo all'inizio, nel senso che io conto il batticuore di Vittoria che non ce l'ho più. A volte mente, ma mente fa le bugie bianche, sono bugie bianche queste. Allora, abbiamo il messaggio del Vice Ministro per Infrastrutture e Trasporti, l'Onorevole Galeazzo Bignani. Grazie Vittoria, grazie perché con questo premio che ancora una volta onora la tua bellissima carriera, però in una qualche maniera contribuisce a rendere sempre più importante, sempre più prestigiosa, sempre più bella la nostra Bologna. So che dovrei partire dal ringraziamento nei confronti di chi ti conferisce il premio, nei confronti di chi ha ritenuto di tributarti questo ennesimo, ma mai sufficiente omaggio. Però ho voluto dirti grazie per quello che stai facendo per la nostra città, per la nostra nazione, per il lustro della nostra patria. E tu e io che ci conosciamo bene sappiamo il significato intimo e profondo di questa parola. patria. Spero mi perdonerai di non essere con te oggi, ma ci troveremo sotto le due torri a festeggiare assieme come abbiamo fatto tante volte in passaggio e come sono sicuro faremo ancora assieme in futuro. Grazie davvero Vittoria e ti mando un grande bacio. Grazie, grazie al Vice Ministro Bignami. Le due torri, insomma, è chiaro, noi siamo a Roma, Vittoria Capelli è, questo possiamo dirlo, una donna assolutamente internazionale, però le radici sono radici. Bologna, Bologna. E allora Simona Lembi, componente del gabinetto del Sindaco Città Metropolitana di Bologna, per portare il saluto. Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Saluto il Presidente della Commissione Cultura, il responsabile, il consigliere per le questioni della danza del Ministero, le autorità civili presenti in questa sala e tutte le persone che hanno scelto di partecipare alla gioia di Vittoria Capelli in questo momento. e nella giornata di questo riconoscimento. In questi giorni Vittoria ha rilasciato alcune interviste sulla stampa, anche locale, e alcune delle sue risposte a me hanno colpito moltissimo. Ha una domanda specifica, ma lei è felice? Ha risposto, sì, perché con me ho la danza, ho il mondo, ho Bologna. Per me è un onore enorme poter portare i saluti del Sindaco della città di Bologna, Matteo Lepore, e della nostra città tutta in un'occasione come questa. E cioè in un'occasione in cui si riconosce il lavoro profondo di lunga data di una donna della cultura. E anche si celebra una parte, forse la storia più profonda, della nostra città. È stato detto bene prima, ci sono dei legami che sono inscindibili. E io penso che i contesti urbani, le città, abbiano anche quelle che noi chiamiamo delle impronte. Cioè delle cose che si raccontano e che le nostre vite attraversano. Una di queste è certamente l'essere una città di cultura. Io non dirò della più antica università, degli alti consumi culturali, questo mi interessa poco e mi farebbe prendere anche troppo tempo. Mi interessa invece sottolineare alcune questioni del lavoro di Vittoria Cappelli, che sono profondamente legate anche a Bologna. La prima, per noi Vittoria ha saputo osare in un terreno importantissimo della cultura, come quello del stare su discipline diverse. Nel 1972, quando lei organizza il primo spettacolo in Piazza Maggiore, intreccia il linguaggio della moda, quello della danza e quello della musica. Non lo facevano in tanti. La seconda è quella di avere osato e sempre di aver lavorato molto sul terreno dell'innovazione, sul terreno della sperimentazione. Penso al fatto di avere portato la danza nelle piazze, cioè nei luoghi in cui sono presenti i valori, i diritti, le presenze dei cittadini e delle cittadine. Ci vuole molta tenacia, ci vuole molto coraggio per osare sul terreno dell'innovazione. E infine, cosa che a noi sta particolarmente a cuore, Vittoria Cappelli è stata capace di indagare e scovare in continuazione nuove generazioni di danzatori, nuove generazioni di artiste e di artiste, e di tenere un filo legato importantissimo tra generazioni diverse del mondo della cultura, perché nessuna nuova generazione ricominci da capo come se alle spalle non ci fosse niente. E infine, mi perdoni metà di questa platea, ma a mio parere questo riconoscimento è anche all'impegno delle donne nel mondo della cultura, un impegno non sempre adeguatamente riconosciuto. E in questo c'è la storia di Giganti, la prima docente all'Ateneo di Bologna, Laura Bassi, che nel 600 sale in cattedra, di altre, Elisabetta Sirani, che dipinge insieme con Artemisa Le Gentileschi, e poi, più recentemente, anche quello di Vittoria Cappelli. Ci uniamo alla sua gioia, l'aspettiamo presto a Bologna, e il sindaco le darà a fine mese il riconoscimento della turita d'argento, per noi, potete immaginare, per noi a Bologna. È una gioia enorme questo, che è il riconoscimento alla sua carriera di lavoro. È la terza torre. Grazie. Grazie, Simona Lembi. Intanto salutiamo Bologna, il presidente Pierferdinando Casini, grazie di essere con noi. Salutiamo Pupiavati, grazie di essere con noi. Dino Trappetti, perché tra poco sarà premio. Beh, sì, devo fare tantissimi nomi, me ne rendo conto. Su questo, però, il nome vale un abbraccio, che è doppio. Beppe Menegatti, grazie di essere con noi. E poi, giuro, riuscirò a sbagliare, e a non nominare tutti, ma riuscirò a nominare, spero, tutti. Sì, allora, ancora, da Bologna arriva questa lettera, la lettera... Scusa Paola, approfitto anche per salutare il sottosegretario Borgonzoni, che è arrivata, è qui in prima fila, e annuncia appunto che sta arrivando anche il presidente della Festa del Cinema, Farinelli. Grazie, grazie Presidente. Allora, scrive, ci sono due messaggi ora, i quali do lettura. Scrive il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI. Cara Vittoria, ho ricevuto la comunicazione della decisione della Camera dei Deputati di conferirle un riconoscimento per il suo impegno, la sua dedizione di tutta una vita nel campo artistico e culturale. Nel rinnovarle la mia stima e il mio apprezzamento, la saluto e le auguro ogni bene. Matteo Maria Cardinale Zuppi. Mentre questo pomeriggio, questo primo pomeriggio, ci stavamo tutti preparando, nel senso che eravamo tutti quanti noi amici intorno a Vittoria, è arrivata a Vittoria Capelli una telefonata. La telefonata era di Gianni Letta, che le ha chiesto di dire queste parole, sono scritte a penna perché Vittoria me le ha dettate tra un singulto e l'altro e io ho il piacere, un grande piacere, di potervele leggere. Riguardano Vittoria e tutti noi. Gianni Letta dice, sono molto dispiaciuto di non poter essere presente oggi. Avrei voluto volentieri rendere omaggio ad una donna straordinaria per il contributo altissimo che ha dato alla cultura italiana, con la sua arte, con il suo valore professionale, con il suo coraggio, con la sua intraprendenza. È stata una pioniera arrivata al successo quando era ancora più difficile per una donna. Tutti le dobbiamo qualcosa, ma le donne ancora di più. Ti abbraccio Vittoria, abbraccio tutti. Gianni Letta. E a questo punto chiedo, a proposito di carissimi, carissimi, carissimi amici, a Daniele Cipriani, di dare lettura, lo farà dal posto, così mi ha detto, di pochissime parole che appartengono ad un uomo grazie al quale noi abbiamo Vittoria Cappelli. Carlo Alberto Cappelli. Così, mentre l'anfiteatro si apre al fascino del melodramma, unito allo spettatore sconosciuto dell'ultimo gradino, uno tra i mille e mille che popolano questo splendido e lustre monumento divenuto teatro, anche il cuore del sovrintendente batte di attesa e di emozione, come fosse la prima volta, perché è sempre la prima volta, e più che mai questa meravigliosa arena. Carlo Alberto Cappelli. Carlo Alberto Cappelli, sovrintendente dell'Arena di Verona, entra nel 1971 e lascia l'Arena nel 1982. Dico lascia l'Arena perché c'è in questa storia, nella storia di un uomo geniale, generoso, buono, amante dell'arte, amante della cultura, e tutto questo è passato ed è diventato pelle, sangue e cuore per sua figlia, c'è un atto di totale ed estrema dedizione alla cultura. E allora, ufficialmente, noi iniziamo. Quella che tecnicamente è un'intervista, ma in realtà sarà soltanto uno scambio di racconto tra Vittori e voi, quindi la mia Vittorina si deve un po' avvicinare al microfono. Eh, lo so. Chi ha dei fazzoletti di carta, finga di passare di qua e ce li porti. No, scusate, cercheremo di non usarli. Dico questo perché, Carlo Alberto Cappelli, prima di farti la domanda che tu vuoi che io ti faccia, lascia l'Arena di Verona come? Beh, questa proprio non ci voleva per prima, vi devo dire la verità. Mio papà era all'Arena di Verona il 3 agosto, in ufficio, e mentre firmava delle carte, forse è una partenza che vorremmo tutti, è mancato, aveva 75 anni. È stato un grandissimo uomo, ha amato il suo paese, ha amato l'Italia, ha fatto dell'Arena il più grande teatro all'aperto del mondo, musica, danza, parola, la parola no, la parola l'ha fatta dopo con i giovani, con le compagnie, ha fatto di tutto perché il messaggio al mondo fosse che la cultura è per tutti, che deve essere aperta a tutti, che deve essere, e quindi è la televisione in effetti il grande mezzo che può portare la cultura di qualità in mezzo alla gente. L'Arena di Verona porta 20.000 persone, e 20.000 persone sono tante per tante sere, lo sa oggi Sicilia Gasdia che regge il teatro dell'Arena di Verona con grande impegno. L'Arena di Verona è un teatro meraviglioso, e mio padre, credo, che dal 1971, quando è cominciato il sovrintendente, per 11 anni ci ha dato la sua vita, ma una vita fatta di sorprese, di avventure, di novità, ha portato degli spettacoli meravigliosi, e lì ho conosciuto una persona che oggi voglio ricordare, Carla Fracci. È caduto il bastoncino, pazienza. Nel 1971 io mi innamorai della danza, perché la lirica l'avevo vista da quando avevo sei anni, al comunale di Bologna, dove mio padre è stato sovrintendente, e invece che portare al cinema il babbo, che era sovrintendente, ci portava al teatro comunale. Io avevo sei anni. Quindi ho varcato i palcoscenici in tutti i modi per tanto tempo della mia vita, in vari modi diversi, e amo quindi i palcoscenici in partenza. E quindi io, il babbo, ha fatto tantissime cose, voglio solo ricordarvi una, perché se no raccontarvi tutti sarei troppo lunga. All'Arena di Verona lui ha portato la danza, l'ho detto, e io vi di Carla Fracci nel 1971 per la prima volta così, in un modo emotivo, in quell'Arena meravigliosa, quelle candeline, Carla ballava Giulietta e Romeo. E io che avevo visto tanta danza con mio padre in tutto questo periodo, mi innamorai follemente della bellezza, dell'emozione che è da un corpo che danza, del bisogno di esprimere se stessi attraverso la danza, che è internazionale perché non ha bisogno della parola, ha bisogno del cuore, del cervello e del proprio corpo, ma anche della propria passione. Alla danza si arriva con rigore, con disciplina. È un'arte che obbliga chi la vuole fare seriamente a essere rigoroso con se stesso, a disciplinare se stesso per arrivare. E quindi Carla Fracci mi ha fatto innamorare e Beppe Menegati, che è qui con noi, al quale do un abbraccio affettuoso e un grande, grande applauso. Caro Beppe, tu e Carla siete state la storia della danza italiana. Grazie di essere qua, grazie di tutto, hai avuto una moglie straordinaria che non era una stella, era di più, erano tante stelle insieme. Questo è il mio ricordo di Carla Fracci. Avevo detto, mi ha detto fammi questa domanda e io carogna non gliel'ho fatta. Perché dico questo? Perché gliela faccio alla fine, questa domanda con la quale Vittoria voleva partire. Volevo partire da un fatto importante. Carlo Alberto Cappelli, Vittoria Cappelli, leggendo la vita di Carlo Alberto Cappelli si scopre, e tra un attimo saremo a Verona, attenzione è stato tantissimo altro Carlo Alberto Cappelli, ma si scopre una cosa stupenda di questa famiglia. È tutta una storia che passa di padre in figlio, il nonno di Vittoria ha dato il via a tutto, l'editore Cappelli, e di padre in figlia. C'è questo debito verso la cultura, c'è questo debito verso la bellezza, c'è questo debito verso l'arte, che questa famiglia, come una catena fatta di oro puro, purissimo, continua ad allungare, continua a portare avanti. Va bene, gliela faccio ora la domanda. Signora Cappelli, da quanti anni lei va a teatro? Da questo l'ho già detto, da quando avevo sei anni. Quindi sono? Sono, io ne ho 86. Sono 80 anni. Applausi, era questo l'attacco. Allora mi suggerisce correttamente, Mula Sungani, consigliere del ministro San Giuliano, è la prima volta che Vittoria, da vera diva, ci dice, ho 86 anni e abbiamo lavorato per anni di testa, di conti, di calcoli, perché Vittoria non ti diceva mai quanti anni stesse compiendo. Mai. Adesso invece, perché questo rappresenta un punto, c'è stato un momento in cui compiva gli anni ogni anno bisistile, nel senso ogni quattro non si capiva, ma non per toglierli, perché correttamente non li diceva. Tutti noi vogliamo mettere la firma, noi che siamo sotto gli 86 anni, per arrivare agli 86 anni di Vittoria Cappelli, come Vittoria Cappelli, ma questo lo sapete perfettamente. E allora... La prima volta di televisione, voglio dire. Ah, eh, adesso... Adesso mi raccom... Guardate il babbo con Rudolf Nurev. Ecco, guardate il babbo con Rudolf Nurev. Allora, ci colleghiamo con Verona tra poco. Tu con... Pierluigi Pizzi, quando presentammo questa è l'arena che è nata Maria Callas, nel 1986... Che è la prima volta... Che io sono andata in televisione e che, vogliamo chiarirlo, la danza è andata in prima visione, prima serata, mondo visione, con questa è l'arena che è nata Maria Callas. E devo dirti, l'ho fatta a me, l'ho fatta io, insieme a un amico che purtroppo non è qua oggi, sarebbe dovuto venire, ma ha avuto un contrattempo, che si chiama Pippo Baudo. Ha un regista che si chiama Pierluigi Pizzi, che sta prendendo un altro premio a Milano. Sai, mai vecchi signori anziani vogliono essere tutti premiati, e noi siamo contenti. E devo dire, è un amico carissimo, che è qui, vicino a me, e che rappresenta, si chiama Dino Trappetti. Ma io parlo di Umberto Tiarelli. Umberto Tiarelli che mi disse, Vittoria, non ci pensare, ma io voglio fare un omaggio al mio babbo. Non sono capace, non so fare niente, non ero abituata a fare il produttore, facevo tantissime cose bellissime, a Bologna, la moda nelle piazze, i balletti Momis per la prima volta in Piazza Maggiore nel 1900, appena arrivati, proprio giovanissimo, 82. Allora, io disse, io voglio fare un omaggio al babbo, ma non devono capire nessuno che lo faccio. E facciamo uno spettacolo. Tiarelli mi disse, ma va la vittoria, ce la facciamo. Baudo disse, ma va la vittoria, ce la facciamo. E Pizzi disse, ma va la vittoria, ce la facciamo. E' nato il primo grande spettacolo, chiamiamolo multimediale, quei temi di oggi, che univa tutte le arti, perché c'era da Milva, con Nastro Piazzolla, c'era la Carla Fracci che ballava con i costumi di Roberto Capucci, sulla voce, ti ricordi Beppe, Casta Diva, con Maria Callas, c'era l'opera lirica, c'era l'operetta con Katia Ricciarelli. Fu una cosa talmente importante, mista la lirica, la carmene, con i costumi delle fendi, fu una cosa che univa la moda, la creatività, la modernità, il messaggio nuovo, e avevamo talmente un grande trionfo di ascolti, che io dissi, beh non è possibile, ma come mai ci siamo riusciti? Eravamo in tre, quattro, la RAI ci ha creduto, l'Arena di Verona ci ha creduto, ed è così cominciata la mia carriera, per poi andare, lo dico in due minuti, che ci facciamo presto, andare dopo qualche mese in RAI, c'era un grande direttore, RAI 1, credo mi sembra di ricordare che si chiamasse Emanuele Milano, e gli dissi, io voglio fare la danza in televisione, come faccio che non so fare da sola? Mi dica lei cosa devo fare? E lui disse, deve conoscere una signora, che si chiama Vittoria Otolenghi, perché solo lei la può aiutare. Beh, è qui con noi la figlia di Vittoria Otolenghi, che è stata l'amicizia, che con sua madre e mia legata eravamo due sorelle, le due vittorie, ci hanno chiamato per 20 anni, 25, le due vittorie della danza e della televisione. E così è cominciata con le Divine a Pisa, i miei 40 anni di televisione, portando la danza, le piazze, le bellezze d'Italia, nelle case degli italiani in prima serata. E devo dire, la verità è questa, io dal 1986 ho portato la danza e la cultura in prima serata sulla RAI. Questa è la cosa che mi fa piacere. Beatrice Otolenghi, qui con noi, la figlia della Vittoria Otolenghi, che ci faceva e ci ha fatto sognare, imparare, capire, attraverso tantissimo del suo lavoro, ma anche e soprattutto attraverso quella maratona di danza, maratona d'estate, che ci accompagnava sempre, sempre, sempre. C'è un libro che Vittorio Otolenghi ha scritto e c'è quella pagina dove si racconta l'incontro tra nitro e glicerina, cioè le due vittorie che si trovano. Prego, signora. Vittoria Cappelli mi piacque subito, innanzitutto per il modo in cui entrò nella mia vita, che mi sembrò onesto, diretto e accorto, doti che sono le sue sempre. Non si fece presentare da qualcun altro, un amico, un collega, e non si fece precedere da qualche autorevole imbeccata. Mi telefonò lei stessa nel novembre dell'86 senza preavviso e mi disse mi chiamo Vittoria Cappelli, lei non mi conosce. Quest'anno ho realizzato un grande spettacolo televisivo, prevalentemente di musica lirica e di moda all'Arena di Verona, insieme con Pierluigi Pizzo. Adesso vorrei realizzarne uno sulla danza, con lei, affidandole l'incarico di inventarselo e poi di realizzarlo insieme con me. Normalmente un discorso così un po' sommario e del tutto imprevisto e da parte di una sconosciuta mi avrebbe indotto quantomeno a ritirarmi nel mio guscio con diffidenza. Invece dissi subito Benissimo, quando vuole venire da me? Risposta. Domani? Non sapevo nulla di lei, soltanto che era la figlia dei Cappelli, già sovrintendente dell'Arena, ma questo non voleva dire poi molto per me. Mi sembrava più importante semmai che fosse la nipote del fondatore della casa editrice Cappelli. Mi misi subito a lavorare con lei, senza chiedere informazioni, nemmeno dal punto di vista dell'assolvibilità. Niente. Abbiamo cominciato un rapporto di scambievole, reciproca fiducia, da zero. Dopo un anno abbiamo realizzato le divine dalla piazza dei Miracoli di Pisa, che tra tutte le successive feste in piazza, in mondo visione, è quella che mi è più cara. È la più completa, la più omogenea e si è svolta all'ombra di tante vere e divine, compresa l'adorabile Dame Margot Fontaine, ancora bellissima, svelta ed elegante. Da allora siamo andati avanti nella vita insieme per una parte del nostro cammino e abbiamo realizzato, anche con altri amici e colleghi, tanti spettacoli di ampio respiro in diretta, fatti di danza, ma anche di parole e di musica. Per gli spettacoli televisivi realizzati con Vittoria Cappelli, questa di solito è la prassi. Io mi spremo le meningi, mi viene un'idea e scrivo il progetto. Poi Vittoria Cappelli parte con la lancia in testa e mette su una produzione imponente. Da vari anni lavorano con noi, il più delle volte, Roberta Lubic e Adriana Borgonovo. Borgonovo, la regista più bella della RAI e la più adatta al nostro tipo di spettacolo. La prima piazza fu la piazza dei Milacoli a Pisa, per le divine, con regia di Paolo Gazzara. Poi piazza Sordello a Mantua, piazza del Plebiscito a Napoli, piazza Unità d'Italia a Trieste, oltre che il grande Circo Massimo a Roma, dove abbiamo fatto il gioco dell'eroe, con la compagnia del Bolshoi e la regia di Antonello Falqui. Ultima è stata Plaza Maiora Madrid, per Los Divinos. Grazie, 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 grazie a Beatrice Ottolenghi e grazie a sua mamma, Vittoria. Saluto il presidente della Festa del Cinema di Roma, Gianluca Farinelli. Grazie di essere con noi. Bolognese doc. E della Cineteca di Bologna, direi. E Cineteca di Bologna, tutti in piedi, per carità. Insomma, voglio dire, sappiamo come... Assolutamente. Però sono andata di... Come dire, come regola vuole il sottosegretario Bergongi. Però insomma, qui, rivediamo, c'è una curva di Bologna che è un tutt'uno. È per forza. Oh, siamo tonti, eh. È partita, eh. Prima tutta. Qui c'è il babbo con la Carla Fracci. Esatto. Qui c'è il babbo con la Carla Fracci. Eccolo qua. E Vittoria, Vittoria. Ottolenghi, Vittoria, Cappelli. È un'unione, un legame, una capacità. Ancora una volta, Vittoria, questo tu l'hai detto, di portare cultura e bellezza in prima serata. A casa di tutti in Italia e nel mondo. Perché parliamo di Eurovisione e Mondovisione per ognuno di questi eventi che noi abbiamo nominato. Poi ci sono tante... Beh, c'è tantissimo, tantissimo altro. Ma ne parliamo, ne parliamo tra un attimo. Perché avevo detto, asterisco, sulla Arena di Verona. Domani sera, se non vado errata, ci colleghiamo con la sovraintendente della Fondazione Arena di Verona, Cecilia Gasdia. E domani sera, la grande Aida. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Che olore, che gioia. Domani inaugura la sua centesima stagione proprio con Aida che andrà tra l'altro in Mondovisione. Saluti, grazie a tutti. Vi porto appunto il saluto della Fondazione Arena di Verona, di tutti i lavoratori e voglio ovviamente vi ringrazio per avermi invitata a questo prestigiosissimo evento. Io ho avuto la fortuna di conoscere abbastanza bene Vittoria Cappelli per cui veramente mi voglio complimentare con lei una donna straordinaria e vorrei anche cogliere l'occasione visto che mi rivolgo a Vittoria per ricordare veramente suo padre a Carlo Alberto Cappelli che per me è stato veramente il mito perché io l'ho conosciuto quando avevo 16 anni facevo la comparsa all'Arena di Verona e ho lavorato in ben 5 stagioni con Carlo Alberto Cappelli sovrintendente e il suo ricordo per me è veramente il mio consigliere spirituale per la sua capacità di trattare con gli artisti di avere questo legame personale molto di amicizia con tutti gli artisti per la sua autorevolezza la gentilezza la competenza veramente e soprattutto quella enorme signorilità io ogni giorno che passo penso a Carlo Alberto Cappelli e al fatto che sicuramente se non ci fosse stato lui forse oggi non ci sarebbe la fondazione Arena di Verona perché lui fece fare un balzo incredibile all'Arena di Verona che passò proprio sotto la sua sovrintendenza da ente autonomo a ente lirico e questo poi diede la possibilità all'ente lirico di diventare fondazione Arena di Verona e aggiungo non voglio dilungarmi aggiungo che applaudo e nessuno più di me ovviamente è felice ed esultante per questa volontà chiarissima espressa da questo governo lungimirante di far rinascere i corpi di ballo perché l'Arena di Verona ha una ferita aperta molto recente perché purtroppo nel 17 proprio l'anno prima che io diventassi sovrintendente è stato tagliato il corpo di ballo e quindi siamo tutti in attesa di poter rientrare in questa avventura dei corpi di ballo per cui spero tanto vittoria di essere sicuramente una di quelle fondazioni che potranno rifar nascere il corpo di ballo far risorgere il corpo di ballo all'Arena di Verona che ci ricordiamo tutti i meravigliosi spettacoli fatti da te e questi spettacoli con questo grandissimo corpo di ballo e speriamo tanto vittoria veramente di poter collaborare finalmente insieme di nuovo per grandi spettacoli di balletto all'Arena di Verona complimenti vittoria un abbraccio e un bacio grandissimo grazie grazie Cecilia Gasdia grazie buon tanto tantissimo lavoro voglio basta no non basta voglio anche salutare l'assessore Edoardo Fiorentino in rappresentanza del sindaco di Sorrento Massimo Coppola perché Vittoria Cappelli è anche il premio Caruso a Sorrento è questa Mula lo sa è questa questa capacità di portare nel ricordo nel racconto del grandissimo Caruso di portare questo grande premio in uno dei luoghi più belli del mondo dove speriamo dove Lucio Dalla ha composto quella canzone quel Caruso e speriamo speriamo anche qui che questo grandissimo meraviglioso premio di stasera costituisca una nuova partenza anche per guardare laddove il male luccica e tira forte il vento e poi e poi l'ha citato il presidente Mollicone Paspartout ancora ancora una volta Paspartout cioè quel racconto c'era quell'uomo al quale va il nostro applauso che era Filippo D'Averio che sapeva tradurre cultura arte come come sapeva fare solo lui e Paspartout è stato parla è stato giustamente è stato un altro grande elemento che tu hai portato in televisione ho citato Caruso ho citato Paspartout Paspartout è i tre c'è qui l'avvocato patriarca ancora se è ancora qui spero di sì se non pazienza e ci ha aiutato a fare in modo eccolo l'ha giudice essere patriarca ecco bene non mi ricordo più quante puntate erano ma mi sembra 4 o 500 circa 500 puntate del signor D'Averio che durante quando gli italiani ma è stato stato bellissimo perché il taxista lo fermava mentre io mando gli spaghetti la vedo che mi fa vedere le bellette d'Italia era diventato un mito e credo che la RAI sono felice per lei da 500 puntate regolari ne abbiamo andati non da 5.000 è stato un successo per 7-8 anni che di giorno di notte si rivedeva ad Averio con Paspartout tutti i vari tipi di Paspartout perché è stato un modo di parlare della cultura in modo facile Pupi tu capisci cosa voglio dire il signor Abatti lo capisce di portare nei musei più difficili del mondo nelle mostre più difficili di intervistare dei personaggi astrulli e di far vedere le bellezze d'Italia lui faceva vedere i musei in un modo tale che il museo ti veniva incontro ti emozionava perché diventava vivo per le sue parole io ricordo Filippo D'Averio che è stato un grande compagno di lavoro una persona straordinaria e credo che un programma così meraviglioso anche per i giovani aveva tanti giovani quando veniva a Bologna a girare l'universitario i ragazzi lo fermavano per la strada come che fosse un vivo era bruttino Filippo era elegantissimo niente di speciale però era un mito e quindi anche lui ringrazio perché ha fatto parte della mia carriera perché lei è così e allora è stata citata giustamente anche nelle pagine di Vittorio Ottolenghi e Adriana Borgonovo io a proposito di Paspartout voglio salutare io li chiamo i suoi i suoi tre moschettieri intanto il regista di Paspartout Alessandro Tresa e con Alessandro Tresa Roberto Croce che è da qualche parte e Duccio Forzano i magnifici tre i magnifici tre e quattro con Adriana Borgonovo perché perché Vittorio Capelli sa chiedere tantissimo ma sa affidarsi e la regia anche la regia così come per tanti anni i costumi di Giuseppe Tramontano come tutto ciò che è bellezza il premio Oscar di Tirelli il premio Oscar di Tirelli beh insomma Tirelli tra poco credo anzi che di Tirelli si diranno cose Presidente dico bene ma noi li diciamo prima eccola è partita attenzione al primo banco Cappelli è scatenata come maestro sempre grazie Mollicone qui si ringrazia la Camera dei Deputati e l'onorevole Mollicone Mattimani che dire e tutti gli altri e tutti gli altri bene Simona Marchini che vedo laggiù grazie così come così come Carmen la sorella grazie di essere con noi così come così come saluto Anna Camarano quanti lavori fatti insieme vai 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 su ci sono dei nomi il Camarano l'ha già detto anche Vagna Tlax che ha portato il grande film che è riuscito per prima a portare i grandi film in Italia grazie Vagna ci hai dato tanta qualità nel film che tu hai portato in Italia per prima e sei stata coraggiosa ma hai vinto ok bene Mimma Gaspari Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini grazie grazie di essere con noi Mariano Rigillo è stato un dio con dico due secondi ancora con Lina Sastri piazza plebiscito Napoli per la prima volta aperta dopo che i taxi a un momento ci ammazzano tutti perché abbiamo fatto mandare via i taxi è diventato da noi per merito nostro la città senza taxi abbiamo fatto un grande spettacolo c'era Carla Fracci sempre c'era Beppe Menegatti i più grandi ballerini e artisti del mondo è stato uno spettacolo straordinario 7, 8, 10 ministri se veniva una bomba cadeva il governo è stato un grande successo piazza di plebiscita Napoli 1988 mi ricordo più 90 87 una cosa prima che sia finito due emozioni ultimissime quella di avere visto il Papa che applaudiva le danze dell'atter balletto mitico balletto che non c'è sì balletto vabbè della nostra regione con le coreografie di Mauro Bigonzetti davanti a Papa Voitila ballarono gli angeli e quando vedrete dopo forse come me forse no perché sono un po' esagerata vi emozionerete il Papa ha battuto le mani e quando io andai da Papa Voitila e lo ringraziare dell'onore che aveva permesso di portare in piazza San Pietro a Roma per la prima volta la danza lui mi disse signora Cappelli la danza è preghiera questa stessa frase me l'ha detta un anno fa una persona che io stimo enormemente che si chiama il nostro Cardinale di Bologna Matteo Zuppi Matteo Zuppi quando gli andai a proporre e c'era anche l'onorevole Casini presente che mi venne a fare i complimenti per me è un onore quando per Ferdinando fa i complimenti perché non li fa tanto spesso venne e abbiamo fatto a Bologna a novembre l'ammemorare ed era un omaggio di danza non parlare che parlo io e facemmo con i danzatori della Scala di Milano un omaggio memorare era un omaggio attraverso la preghiera la danza in piatta della Basilica scusatemi nella Basilica di San Petronio con Giuseppe Tramontano che è qui con noi e fu un trionfo fu un successo e lì sono tornato un po' a dire ma accidenti so fare anche queste cose ancora e mi meravigliai e fu una cosa meravigliosa quindi ringrazio la Chiesa che per la seconda volta ha veramente pensato che la danza può essere anche preghiera bene con preghiera di scusarmi se io non sia riuscita proprio a nominare tutti ma voi sapete Amede Amodio Gabriele Lavia Gabriele Lavia Gabriele Lavia Gabriele Lavia Amede Amodio Vladimir Vianco Vladimir Vianco che poi vedrete ballare scusatemi sono tanti davvero ci siamo dimenticati adesso ti pensi Amede Amodio che lo vedrete ballare che è stato un grandissimo coreografo grandissimo ballerino e qui lo vedrete ballare con Carla Fracci in uno dei miei primi spettacoli poi è stato il coreografo di tante altre cose non so ci dimentichiamo scusatici tanto ma non è così facile ricordarsi tutto non è così facile ricordare tutto non è così facile però quello che sappiamo è che ci siete tutti questa è la cosa che conta in una giornata come questa assolutamente istituzionale per la quale però ringraziamo la possibilità che ci è stata data cioè quella di uscire un po' non perché l'istituzionale non vada bene anzi però è una giacca blu no? insomma bisogna tenerla e portarla interpretando l'abito come dicono i maestri ma sapendo che oggi ha prevalso questo pomeriggio soprattutto l'affetto io non so se Beppe Menegatti per tutti voglia dire qualcosa su Vittoria proprio due parole due parole dal posto dal posto Beppe Menegatti ma Vittoria in una parola oddio la lealtà la lealtà è la sintesi la lealtà è una grande parola la lealtà vero? è vero ecco grazie grazie a Beppe Menegatti grazie c'è una ragazza c'è una ragazza bellissima una donna bellissima che avete visto con la panza senza la panza bella non bella che è mia sorella minore perché lei è molto più bella molto più giovane eccetera eccetera che si chiama Roberta Lubic che ha lavorato con me vicina coautrice con me in spettacoli meravigliosi e devo dire si nasconde perché non è come me che parla così come niente fosse però devo dire Roberta abbiamo fatto delle cose meravigliose los divinos a Madrid che tutti non potranno mai dimenticare grazie Roberta non potevo salutarti io tu capisci non potevi essere tra i saluti perché si doveva arrivare a questo saluto di di Vittoria ma lì sono con la regina di Spagna di dietro los divinos la figlia del re di Spagna che mi dà la medaglia bene perché c'è chi si fotografa fra amici e chi si fotografa con la regina di Spagna correttamente a tutte queste fotografie tra poco cederà anzi tutte queste fotografie scusatemi tra poco cederanno il passo ad altre immagini intanto intanto a questo punto presidente andiamo qua davanti io chiamo e ovviamente con il presidente l'onorevole Mollicone chiamo la sottosegretario di Stato per il ministero della cultura con delega al cinema e all'audiovisivo Lucia Borgonzoni eh sì chiamo Gianluca Farinelli la cineteca di Bologna che però è anche il presidente della festa del cinema eh di Roma ehm perché adesso adesso viene consegnato questo premio una vita per l'arte e la danza a Vittoria Cappelli un grande applauso grazie a tutti 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 chiedere questo riconoscimento eh no avrei mai pensato che a 86 anni avrei detto un prezzo vi devo dire a tutti riconoscimento 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 alla carriera ma la carriera grazie a chi me l'ha voluto dare la camera dei potaggi credo che devo dire no grazie a tutti grazie a voi che mi avete seguito in questi anni che mi avete stimato e che avete creduto ci ho messo l'anima per fare delle cose belle di grande qualità applausi ora che abbiamo anche la voce eh ribadiamo e lascio poi la parola ovviamente al sottosegretario Borgonzoni per una battuta prima al presidente della Cineteca di Bologna e della Festa del Cinema e dicevo è veramente un riconoscimento alla carriera è anche un nuovo modello di diciamo riconoscimento che abbiamo ideato poi ce ne sarà un altro importante e vi invito anche ovviamente almeno in sintesi a rappresentarci e a raggiungerci a Palazzo Valdina con una bellissima mostra del maestro Trappetti e per la Sartoria Tirelli Trappetti e io credo che sia veramente bello che la Camera dei Deputati il Parlamento italiano riconosca l'eccellenza dei propri artisti dei propri rappresentanti dello spettacolo perché solo avendo la consapevolezza di quello che rappresentiamo di quello che rappresenta l'Italia nel mondo potremmo diventare far rinascere credere crescere tutto il mondo dello spettacolo dal vivo grazie a Vittoria Cappelli grazie ovviamente al maestro Trappetti anzi io approfitterei per farlo venire qua anche per fare una foto perché dovete sapere un retroscena che il motivo adesso passo il microfono che è solo il motivo per cui siamo abbiamo unito due eventi così importanti in un solo giorno è dovuto ovviamente alle contingenze del lutto nazionale e quindi ci tenevamo però ovviamente sono a omaggiare entrambi ed era giusto visto anche per la loro amicizia che fossero entrambi insieme quindi lascio la parola no vorrei una fotografia per il fiore in mano proprio come mi diventa un premio Oscar io voglio dire una cosa che è curioso il destino commette insieme le cose pare che l'onorevole Mollicone abbia saputo ma invece non sapeva niente di questo legame tra Vittoria e me allora il padre di Vittoria è stato Carlo Alberto Carabello il grande Carlo Alberto Carabello ciao Gabriele è stato il mio primo impresario teatrale nel 65 quando cominciai a lavorare in teatro con la compagnia di Romolo Valli dell'Urlo la compagnia dei giovani diciamo e dove facevo facevo tutto facevo anche l'attore facevo facevo l'autista Romolo Valli facevo il segretario l'Ufficio stampa facevo tutto quanto e Vittoria poi nelle sue grandi imprese di danza in tutti i paesi dove siamo stati a Mantova a Napoli a Pisa non so è stata la mia impresaria perché lei mi assunse come ufficio stampa delle sue manifestazioni grazie Gianluca Farinelli beh dico la mia profonda ammirazione per te per quello che rappresenti perché sei oggi si dice manager culturale che è una parola che un po' mi fa paura perché non contempla la cosa principale che sei tu che sei una straordinaria artista e sei un'autopista la parola utopia è una parola oggi molto dimenticata e poco praticata e invece tu sei esattamente quella cosa cioè tu vedi qualcosa che gli altri capiscono solo una volta che è realizzata e hai la capacità quella cosa impossibile che si può solo immaginare che pochi riescono a immaginare hai la capacità di realizzarla e di mettere in condizione gli artisti di realizzarla è una capacità molto rara oggi poco considerata che invece è l'aspetto chiave del nostro lavoro di organizzatori e poi c'è l'altro aspetto che trovo straordinario che io ti ho sempre considerato un mito da inseguire che non riuscirò mai a essere come te ma perché questa cosa di essere profondamente bolognese che vuol dire essere nel mondo grazie a Gianluca Farinelli e ora lascio la parola al sottoscrittario Borgonzoni grazie io credo che in quest'aula siano presenti non solamente delle eccellenze italiane perché forse è poco dire eccellenze qua ci sono delle persone che sono state visionarie sono arrivate molto prima degli altri perché io non direi manager culturale perché qui si parla di creare arte parliamo di una persona che ha creato che ha creato arte con tutto quello che ha fatto è riuscita a fare molto prima di tutti gli altri quello che ora sentiamo sempre dire perché le arti si sovrappongono si intrecciano in realtà questa donna l'ha fatto molto molto prima che tutti gli altri lo immaginassero ha dato una centralità alla danza io dico sempre la danza sì è come pregare ma la danza in realtà è una delle prime cose che fanno tutti i bambini i bambini appena si alzano in piedi prima ancora di camminare iniziano e provano a ballare perché è la prima espressione forse proprio perché non ha bisogno di un linguaggio comune perché è già un linguaggio comune per cui anche se si parla lingue differenti in realtà ballandoci si capisce uno con l'altro si sta insieme e si riescono a esprimere le proprie emozioni per cui io credo che qui siamo davanti a una persona che è riuscita ad avere una visione è riuscita giustamente come prima diceva anche Simona unire le generazioni che è una cosa fondamentale e in questo è stato bravissimo anche lei perché non solo è riuscito a vincere premi in Italia e nel mondo ma è riuscito anche a levare nuove generazioni perché io penso che il grande compito di tutti noi io ho creduto io faccio un lavoro d'ufficio stampa ho creduto in Umberto Tirelli quando lui ha aperto la sua impresa gli fece un piccolo prestito poi lui mi chiede se voleva restire tutti i soldi o entrare a far parte della società e sono stato il primo socio di Umberto Tirelli perché ha creduto perché ha creduto in questo grande genio anche lui grande genio che comunque ha tenuto assieme le generazioni perché la cosa fondamentale è tenere assieme le generazioni perché quando si parla di Tirelli di un luogo dove si è creata l'arte se poi però non si allevano e non si crescono nuovi ragazzi che amino la danza che amino costruire costumi ma in realtà quelli non sono costumi sono opere d'arte sono opere d'arte in realtà non potremmo avere un futuro per cui penso che il vostro grande compito sia quello di continuare a dare l'energia e l'amore sì ma ah ma quello sì ma mi sembrate molto più pimpanti di io normalmente nei miei giorni normali vi vedo benissimo anzi potreste essere l'esempio che la cultura fa vivere a lungo e fa vivere molto bene dovremo portarvi in giro per far vedere quanto amare la cultura in realtà in realtà fa bene abbiamo scoperto con Vittoria che siamo coetanei ah vedi e poi una cosa importante ne stavo parlando ora noi io nelle mie varie deleghe oltre quella del cinema c'è quella della fotografia ho visto delle bellissime foto credo che faremo una bellissima mostra e sono convinta che a Bologna saranno felici di averla con le foto che raccontino la storia perché anche l'immagine la sua storia perché anche l'immagine ha una potenza enorme come la danza grazie quando hai visto il video perché prego perché con lui abbiamo inaugurato questi riconoscimenti e proprio in questa sala quindi diciamo è stato aperto una strada grazie sempre e quindi anche il maestro Avati se vuole raggiungerci per fare la foto insieme per rappresentare Mariano se vuoi sì arrivo Beppe si anche Beppe facciamo una foto di gruppo Presidente Casini lei è padrone qua quando vuole io non insisto ma quando vuole la foto di gruppo io ormai ho preso il possesso anche di Bologna nella WIP Italia-USA sono ovunque mamma mia quanti siamo un titolo di cosa piano aspettiamo il mitico Menecatti invece ascendo io ascendo ascendo e con questa bella foto di gruppo farei ancora un grande applauso grazie davvero non andate via perché dovete vedere il video sì sì vi salutiamo con un video Presidente dico solo un ringraziamento un grande applauso anche a Paola Saluzzi grazie ringrazio ringraziamo Salvo Guercio e Maxime Derevianco per queste immagini grazie davvero e un mio applauso a Daniele Cipriani prego la regia grazie davvero e poi per chi vuole raggiungerci a Palazzo Valdina vi aspettiamo Vittoria Vittoria Cappelli Vittoria Cappelli Vittoria Cappelli secondo anche da me Alessandro Casper Vittoria 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 Vittoria